Come si sente? Come si sente? Ancora qui, passa anche la mano. Ma si era spaventato un po' del buon giù. Sottopadre, quale è stato l'incontro più bello? Santità! L'incontro più bello? Qual è stato? Signor, colore, un po' di swearza, un po' di abitura via il nome del Duart. Sono molto bello. Ancora. 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 So andai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.